Governo del territorio, tutela del paesaggio, alluvione di Livorno, banda ultralarga e carceri. Questi gli argomenti al centro dell'ultima seduta della giunta regionale. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha voluto fare il punto sull'attuazione delle nuove norme a tutela del paesaggio da parte delle amministrazioni comunali toscane, la legge 65, quella del governo del territorio e il piano paesaggistico. A tre anni dalla sua approvazione sono già stati presentati 102 nuovi piani strutturali, dei quali 76 intercomunali. Alto anche il numero delle varianti agli strumenti urbanistici approvate, circa 701, tutte conformi a quanto previsto dalla legge 65 dal piano paesaggistico della Toscana. Le cose stanno funzionando, quello che pareva impossibile, come molti dicevano, invece sta diventando lo strumento di governo del territorio che preclude appunto che ci siano consumi di territorio agricolo, ulteriori cementificazioni e questo è un dato importantissimo. I nuovi piani puntano tutto sulla rigenerazione urbana, puntano tutto sulla ristrutturazione perché si è già costruito molto e il territorio non è ancora costruito e è bene lasciarlo alle nuove generazioni. Il prossimo 27 novembre sarebbero scaduti i termini per la redazione di nuovi piani strutturali e piani operativi da parte dei comuni che nel 2014 avevano gli strumenti urbanistici scaduti. La regione ha deciso quindi di prorogare di sei mesi questo termine. Insieme al governatore Rossi e alla conferenza stampa anche gli assessori Vincenzo Ceccarelli, Cristina Grieco e Vittorio Bugli. Per quanto riguarda l'alluvione di Livorno, la giunta regionale ha deciso di stanziare altre 12 milioni di euro per finanziare la parte relativa agli interventi del rischio idraulico. L'assessore Bugli ha invece presentato l'accordo di programma per la diffusione della banda ultralarga nelle aree ignorate dai gestori telefonici perché poco redditizie. Attraverso la delibera diamo avvio a un accordo di programma e relativa conferenza di servizi. Per dirlo facile si chiamano tutti gli enti che devono dare i pareri sui lavori che devono essere fatti in questi comuni della prima fase e lì in conferenza di servizi tutti sono chiamati a dare i pareri. L'assessore Greco invece ha annunciato ulteriori risorse, quasi 200 mila euro in più, che si vanno a sommare 500 mila euro già stanziati per cofinanziare progetti di formazione professionale rivolte ai detenuti delle carceri toscane.